Sono pronto a ottimizzare Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video Dopo esattamente due anni Sono tornato a registrare un video finalmente con Salvo E' tornato a Milano Toccata e fuga raga Non vuole convincersi a trasferirsi Quindi scrivetegli qualcosa Diteglielo E almeno poi facciamo un po' di più cose insieme Visto che è in Sicilia in un buco di E non riusciamo mai a fare nulla Nel video dove sono andato a installare la tv sul muro Che è andato benissimo E sono arrivate anche un po' di critiche Tra virgolette per il fatto che l'abbia montato così in alto Purtroppo ragazzi Questo è un muro di cartongesso E questa tv pesa 45 kg Più o meno Quindi mi sono dovuto basare Con il profilo posteriore La staffa di metallo del cartongesso Purtroppo questo cartongesso è veramente sottile Quindi se l'avessi attaccato direttamente Il cartongesso più in basso Io l'avrei voluto mettere a qui A questa altezza più o meno Ma sarebbe crollato tutto Quindi assolutamente non si può fare Un altro commento che avete fatto All'interno di quel video È stato riguardante L'impianto audio Mi avete chiesto Che case avessi utilizzato Che amplificatore Eccetera Questo impianto audio Ha un bel po' di anni L'amplificatore in realtà è nuovo 4K Supporta praticamente tutto Della Denon Se qualcuno è interessato al modello specifico È l'X540BT Bluetooth Sì vi lascio il link di quello che ho O quello che riesco a trovare in descrizione Invece le due colonne principali Ce le ho da una vita Erano state realizzate su misura Ma purtroppo ho dovuto cambiare gli speaker Eccetera Comunque sono buoni Ma ormai non sono più perfetti Quello centrale invece E i due posteriori Sono dell'auna Molto economici Però per guardare un film ogni tanto Vanno assolutamente bene Come uno tanto giusto Piccolino Vero? Oggi Finalmente E Salvo È qui per aiutarmi Andiamo a effettuare Un upgrade Visto che È arrivata l'ora Tutto wireless Un impianto di Sonos Composto da Una soundbar Che è la Sonos Beam Il subwoofer Che è enorme E pesantissimo E due Sonos One Oggi Andremo a posizionare Tutto l'impianto A installarlo E vedere un attimo come suona Avevo collegato un secondo La Beam L'avevo già unboxata Per vedere un secondo Che funzionasse Scaricare l'app Eccetera Ma Non l'ho ancora provato Effettivamente con La TV Perché Purtroppo Essendo una TV Molto piccola E comoda da spostare Servono tre persone Per toglierla E collegare anche Semplicemente un cavo Nel frattempo Vi faccio vedere Cosa abbiamo realizzato Sul suo canale Per andare a posizionare I Sonos One Che andranno posizionati Dietro al divano Abbiamo costruito Questa sorta di Struttura Che fa da sé parè Esatto Volevo fare qualcosa Di un po' artistico E ho detto Vabbè Compriamo un po' di Cubotti Li mettiamo tutti insieme È venuta fuori questa cosa E andremo a posizionarci sopra I due speaker posteriori È tutto wireless Ma ovviamente L'alimentazione rimane Quindi Non è che ci possiamo Fare più di tanto Salvo vuole bucare Anche questo Io non voglio A me non piace Bucare le cose Verrebbe più pulito Sì Non voglio farlo No Non lo faccio Mi dispiace Così Abbiamo messo ovviamente Delle piantine Perché Un canale tech Non può non avere Le piantine Dell'IKEA Quindi direi di aprire Gli ultimi pacchi Che ci sono rimasti E vedere un attimo Il sub Eccetera Il sub è l'unica cosa Che manca da aprire Anche perché È l'ultimo pezzo Che è arrivato Il resto in realtà Mi era arrivato Un mese fa Ma stavo aspettando il sub Io so che tu sei Un amante Degli impianti audio Hi-Fi Sei proprio un rompic Visto Me l'avevi già detto Due anni fa Quando ero venuto Ma prenderti un impianto E gli faccio Sì lo farò Prima o poi Lo farò Ed è arrivato il momento Tu li hai mai provati questi? No Assolutamente Tu che cos'hai a casa? Ho il set completo Di Magnat Centrale E quattro casse Ovviamente Quattro casse Quindi non hai Ah no Centrale e quattro casse Senza woofer Senza sub Anche per sub Ok È un amplificatore Vecchissimo Sempre Denon Che è fantastico Io adoro L'amplificatore 7.1 Che magari Lui metterà qualche schema Qui su come funziona Diciamo 5.1 7.1 Eccetera Perché abbiamo Visto insieme Come riuscire a posizionare Le casse Quelle posteriori E devo dire Che la posizione È perfetta Sì più o meno Dovrebbe essere perfetta Poi Dovrebbe fare Una calibrazione Automatica Sì Questa dovrebbe andare A simulare Sia il centrale Che le due frontali E quelle due posteriori Vanno a fare il riempimento Esatto Nonostante sia piccola So che sono migliorate parecchio Le soundbar Negli ultimi anni A me non sono mai piaciute In realtà ne ho anche presa Già una a Venezia Che non vi ho fatto vedere Ma a metà dicembre Quando tornerò per Natale Eccetera Vi assicuro che registrerò Un video molto economica Ma un risultato spettacolare Hai visto il muro che ho fatto È venuto bello Vero? Sì è venuto bello Mamma mia Allora proviamo a sollevarlo Provate a tenere giù la scatola Pesa un quintale Io attualmente stavo usando Un sub Che non è stato detto Della Bose E Fantastico Però Un po' rovinato Perché ha i suoi anni Wow Bello pulito Devo dire Ah lì c'è la La virtual lounge Oh è vero Puoi vedere? Ah No no in realtà Ho contratto sul sito Ci sono i due speaker Posizionati uno Di fronte all'altro Per andare a effettuare Una sorta Non di noise cancelling Ma per ridurre Le vibrazioni esterne Credo Praticamente andando A far scontrare Le onde L'una con l'altra Dovrebbe ridurre I tintini Ad esempio se c'è Una cristalliera O quello che è Dovrebbe ridurre Quel tipo di suoni Ma Non l'ho ancora provato Quindi Direi di collegare tutto E vedere un po' Come funziona Abbiamo fatto un po' Di pulizia Sistemato dei cavi dietro Abbiamo tolto la canalina Abbiamo tolto tutto Per ora Continuerò a utilizzare L'amplificatore principalmente Come switch hdmi Poi domani Ordinerò uno Switch automatico In modo da Toglierlo E non avere più Assolutamente nulla Siccome per togliere Questa tv è molto comoda Leggera Servono tre persone Due Che la sorreggono E uno che tira Vai tira Ok Ok Con molta calma Scendiamo Allora Salvo È il tuo momento Vai dietro Dobbiamo attaccare Quella hdmi lì Alla presa arc Dovrebbe esserci Una presa hdmi Chiamata arc È già occupata Ok togliera Ok Per il resto In realtà Dovrebbe già Andar bene così Quante presa hdmi Ci sono dietro Solo quelle due Vero Perfetto L'arc È quello che abbiamo Appena messo Giusto Perfetto Vai Possiamo riattaccarlo Allora Ok Allineato Io ci sono Da questo lato Anto È agganciato Anto Sicuro Ok Buono Evitiamo di muoverlo Troppo Ok ci siamo Che ansia Ogni volta muovere Sto roba è un'ansia assurda Salvo mi stava dicendo Se vuoi ti sistemo lì Con delle fascette Io ho meglio delle fascette Questi qua sono fenomenali Non li hai mai usati? Ah sì Questi sono Godlike Tu sai perché Ho comprato questi? Perché prima o poi Linus verrà a casa mia E farà il tour della mia casa E troverà questi Che non li ha trovati Da MKBHD E dirà No non è vero Però va bene Mi autoconvinco Allora E l'ultimo pacchetto Che manca È il secondo Sonos Nel frattempo La Fire Stick È partita Che andrà Nella parte posteriore Uno l'abbiamo già collegato Manca solo l'alimentazione Sono belli Sono piccolini Pesano però eh Sarà due chili Abbiamo finito di collegare Abbiamo finito di collegare tutto Ci è voluto un po' di tempo Abbiamo avuto un problema Purtroppo con il ricevitore La tv andava in confusione Perché vedeva tutti e due Come presa ARC Praticamente Non funzionava Ho già ordinato uno switch HDMI Che arriva domani Quindi sarà È solo una cosa in più Diciamo E adesso La Fire Stick Funziona Abbiamo collegato I due beam Dietro di noi Il woofer È lì Ma l'unico Che abbiamo collegato Veramente Con L'app È configurata È il Sonos Beam Ovvero La barra Abbiamo provato Un attimo L'audio E si sente Veramente bene Anche solo Con la barra Quindi sono curioso Di vedere Ovviamente mancano Un pochino di bassi Ma sono curioso Di sentire con il sub Adesso spostiamoci Sull'app E vediamo di configurare Gli altri due Come potete vedere Il beam È già collegato Direi di collegare Per prima cosa Il sub Ok È collegata l'alimentazione Sì Attendi che la luce verde Lampeggi Non sta lampeggiando Vedo una luce rossa Ho dei dubbi Sulla luce Luce rossa Lampeggiante Attendi che la luce verde Lampeggi Una spia rossa Che lampeggia lentamente Indica che il sub È stato alimentato Ed è in attesa Da più di 30 minuti Ok In effetti sì Abbiamo fatto altro Nel frattempo Quindi è in attesa Allora Ci dice di premere Il tasto Di collegamento Andiamo È andato subito Installazione del diffusore Sub nero Configura questo sub Vediamo un attimo se va Il sub è stato aggiunto Ci ha messo circa Un minuto Più o meno Non super veloce Ma Ha fatto tutto da solo Quindi ci sta Allora continua C'è anche un aggiornamento Quindi aspettiamo un attimo L'aggiornamento E poi dovrebbe funzionare Aggiornamento anche Dell'account Attendere che connettiamo I diffusori Sono solo account Perfetto Allora Copiamento completato Avanti Attendere prego Preparare i diffusori Nella stanza Per farli operare assieme L'operazione potrebbe richiedere Un minuto Ok Tutto un minuto Trueplay Ottimizza i tuoi diffusori Ottimizza i diffusori Con Trueplay Per avere Un audio fantastico Imprendente dalla loro posizione Ok continua Cominciamo L'ottimizzazione Trueplay Richiede circa 3 minuti Utilizza il microfono Sul tuo dispositivo Apple Se presente Una custodia Che copre il microfono Rimuovi la prima di iniziare In questo caso Non c'è Quindi Inizia l'ottimizzazione Vorrebbe accedere al microfono Perfetto Due volte L'ottimizzazione In questa stanza Tra poco mostreremo Come eseguire Le tecniche di ottimizzazione Innanzitutto Rimani seduto Bilancia il suono In cerco un diffusore Dopodiché Camminerai con l'iPhone Mentre sonno Sottimizza il suono generale Della stanza What the fuck Ok Continuo Riproduci Ora i diffusori Sono bilanciati Per la zona Dove si è seduti Dopodiché Cammina con l'iPhone Per ottimizzare Il suono generale Della stanza Ok Bene Adesso allora Ottimizziamo L'audio della stanza Ve lo faccio vedere Al volo C'è la tizia Che va in giro E muove il microfono Io adesso farò Esattamente come lei Sono pronto a ottimizzare E muove il conventional E muove il microfono Della stanza Grazie a tutti. Mi sono sentito deficiente! Ok, ragazzi, è veramente inquietante come cosa. Il sub è collegato. Adesso dobbiamo collegare quelli posteriori. Se mi fa rifare la stessa cosa e me la fa rifare perché lo so, lo odio. Però sembra sentirsi bene. Allora, abbiamo il beam e il sub connesso. Mi dice se voglio rimuovere il sub, ma noi andiamo ad aggiungere invece surround. Due play, no, noi abbiamo due Sonos One. Configura questi dispositivi. Ok, ha iniziato a lampeggiare bianco. Dovrebbe aver quasi finito. È verde, perfetto. Ho aggiunto surround destro, continua. Aggiornamento Sonos. Ovviamente anche questo deve fare l'aggiornamento. Per preparare i diffusori nella stanza per farli operare assieme. Io so già che adesso mi inizierà a rifarfare tutta la roba. E io l'ho fatta per niente. Poteva chiedermi già quanti ne volevo tre? Probabilmente ho sbagliato io qualcosa nell'applicazione, ma va bene. Allora, abbiamo finito la configurazione. Ho rifatto la mia scenetta da stupido andando in giro con il cellulare cercando di calibrare tutto. E abbiamo testato l'audio. Effettivamente funziona. Abbiamo provato un attimo con un paio di canzoni. Dagli speaker posteriori si sente basso, ma perché è una scelta. Perché principalmente dovrebbe arrivare dalla parte frontale. Probabilmente c'è anche qualche impostazione. Per ora non sono ancora andato nel dettaglio per vedere appunto quali modalità audio ci sono. Ma si può fare tutto tramite l'app. Non so se si possa tramite qualche altro telecomando. Non ho idea. Allora, vi faccio sentire per quanto si possa sentire. Due secondi da qui. Comunque, l'audio per quanto riguarda la musica è veramente buono. Ma dobbiamo testarlo con un film. Quindi, fermiamo un attimo la riproduzione e cerchiamo di riprodurre... Cosa c'è? Transformers, dai. 2017 va benissimo. Riproduci. E vediamo un secondo com'è. Alziamo la musica. Per favore non mi date lo strike. Non voglio farvi vedere il film, ve lo giuro. Comenza. Sai che posso stare di impostarlo? E va? No, mi senti. Ma lo senti, senti. Allora, fermo il film perché già qui ormai il video è andato, ormai basta. Devo dire che sono sorpreso, non tanto dagli speaker posteriori, perché ovviamente aggiungono, ma dipende dalla zona. No, 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 cioè non è esagerato, diciamo. Tante volte si sente veramente troppo forte. Sono sorpreso dallo speaker frontale che riesce comunque a dare, nonostante sia molto piccolo e centrale, a dare una tridimensionalità al suono. Sì, sì. Veramente sorprendente. Il sub non me lo aspettavo. Vedendo gli speaker così piccoli e... Dice no, pompa, pompa veramente tanto, bello. È bello pulito, non vibra nulla. La cristalliera è a fianco, quello ha appoggiato assolutamente una bomba. Sono rimasto davvero stupito. Devo provarlo per un po' di giorni adesso con le varie funzioni perché ha l'integrazione con Alexa, può essere tutto comandato tramite voce. In ogni caso, se qualcuno dovesse essere interessato a questi prodotti, vi lascio ovviamente i link in descrizione. Io ringrazio nuovamente Sonos per avermeli forniti. Non è assolutamente un video pagato. Hanno deciso di inviarmi questi prodotti, ma posso dirvi assolutamente quello che penso. La configurazione non mi ha fatto impazzire. È molto semplice, ma non so se per qualche problema della mia rete o effettivamente dell'app o quello che è, ci ha voluto un po' più del tempo, del previsto. Molto più del previsto. In alcuni casi non... Esatto, aggiornamenti. Ogni tanto non riuscivo a prendere uno speaker, poi l'ha ripreso, l'ho dovuto fare manualmente. La configurazione automatica è veramente semplice, ma non ha funzionato come avrebbe dovuto sempre. Vale i soldi che costa? Non lo so, l'ho provato veramente troppo poco per potervelo dire. In ogni caso, comunque, essendo un kit completamente wireless, visto che gli unici cavi che ci sono sono quelli di alimentazione... La particolarità è quella, comunque. Esatto. Averlo tutto wireless, poi Alexa, il marchio, comunque è abbastanza conosciuto. Poi c'è il sub è fantastico. Il sub è veramente... E' anche la parte più costosa, bisogna dire. Perché il sub, se non sbaglio, costa circa 799, la BIM costa 439 e invece i due solo, se non sbaglio, intorno ai 200 e qualcosa all'uno, una roba del genere. Quindi non è economico, però... Si possono utilizzare i due davanti, invece? Si possono utilizzare i due davanti come stereo, si possono utilizzare... Si possono configurare... Ci sono questi altri due e li metti davanti. Sì, li puoi usare anche laterali, volendo, li puoi usare anche... Ora lì ci sta, se non li prendendo altri due, quelle è perfetto. Sì, volendo, io adesso li ho usati come surround, ma volendo avrei potuto metterne uno in camera, uno in studio e avere la filo di fusione, quindi farlo andare in tutta la casa. In questo caso a me non interessa perché ho altri impianti di sopra e posso tranquillamente far andare la musica in tutta la casa con Alexa. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Sono contento di averla avuto nuovamente salvo con me con un video. Abbiamo fatto un super mobiletto fatto apposta per questi... Esatto, se volete vedere come è stato fatto vi ricordo che l'abbiamo fatto sul suo canale. e andrà a realizzare anche altri video dove testerà magari il simulatore, eccetera, che adesso dovremo andare a registrare. Quindi, da Blink salvo è tutto, iscrivetevi ovviamente al suo canale, guardate tutti i vari link in descrizione e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao! Vi ricordo che abbiamo lanciato BlinkMyPC, il sito perfetto per realizzare il proprio nuovo computer. Ora potete trovare inoltre anche le nuove offerte in tempo reale, aggiornate automaticamente per non farvi mai perdere nessuna offerta. Inoltre, c'è sia il configuratore base, per chi vuole essere guidato al 100%, oppure quello avanzato, per chi si sente un po' più sicuro di sé. Infine, vi ricordo che ci sono tutte le magliette sia per il mio merchandise che per quelle in edizione speciale. Trovate tutti i vari link in descrizione.